abbiamo avuto dei problemi tecnici purtroppo la piattaforma Spreaker da dei problemi c'è un po' di umidità già dalla scorsa settimana abbiamo avuto un problema anche durante la diretta della puntata Saturday Night si è disconnesse improvvisamente quindi ritorniamo in diretta e chiedo scusa ai nostri amici radio ascoltatori, stiamo parlando di basket, della volley che è appunto della volley e della viola Reggio Calabria dicendo che sta meritando il secondo posto insomma si spera di poter salire in serie a gold sì, speriamo speriamo tutti quanti che la viola torni a volare allora Antonio siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata cosa ci racconti questa settimana? cosa vi racconto? vi racconto la storia di Thomas Simpson ai 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 e chi è Thomas Simpson? Thomas Simpson era un ciclista britannico la sua storia la sua storia è una storia molto importante per quanto riguarda la storia diciamo di tutto lo sport in generale perché comunque stiamo parlando del 13 luglio 1967 si correva il Tour de France la quindicesima tappa che andava da Marsiglia a Carpentras in mezzo a questa tappa c'è il Mont Ventoux non so se tu ricordi la sfida Pantani Armstrong sul Mont Ventoux conosco bene il Mont Ventoux conosci bene il Mont Ventoux sì il Mont Ventoux è una montagna molto è una montagna cattiva viene chiamata il dio dei mali persino da da qualcuno sì tra l'altro una montagna dove ti cambia la il paesaggio nel giro di pochissimi chilometri trovi tipo gli abeti e poi più sali più non trovi nessun tipo di vegetazione sì nonostante l'altezza non sia siderale parliamo di 1900 metri sì diciamo che il motivo per la quale non c'è vegetazione è proprio l'assenza di ossigeno è dovuta anche al forte maestrale che comunque non permette a nessun tipo di vegetazione di vegetare tra virgolette sì e praticamente era correva c'era questa tappa di questo Tour de France Thomas Simpson era campione del mondo in carica e aveva vinto anche il giro di Lombardia era il capitano della squadra della Gran Bretagna quindi già il nome dice lo Stato inglese aveva finanziato questa squadra ovviamente mentre adesso vanno praticamente a premio i primi 20 della generale le squadre vanno a premio solo i primi 5 quindi praticamente Thomas Simpson era la sera la sera prima di questa tappa era stato spinto dal suo manager a rientrare in classifica nei primi 5 se non avrebbe avuto delle forti ripercussioni economiche praticamente Thomas Simpson non aveva come fare il compagno di stanza poi comunque diede la versione dei fatti praticamente chiamò due trafficanti italiani che gli fornirono delle anfetamine lui comunque la mattina dopo prima di partire la temperatura era molto alta sfiorava i 40 gradi in cima al Vantù ce ne erano 36 praticamente lui assunse una di queste anfetamine mentre adesso ci sono le ammiraglie una volta non c'era non c'era niente quindi si era liberi di fermarsi per strada nel bar e Thomas Simpson ai piedi del Mont Vantù assunse un'altra pasticca di anfetamine con un pochino di cognac con un pochino di cognac praticamente questo qua gli fu mortale gli fu mortale e venne scoperto tempo dopo questa è una storia importante perché è il primo praticamente la prima morte nello sport dove viene tirato in ballo il doping e il potere soprattutto il potere economico praticamente la fine dello sport di oggi bella bella storia brutta per la fine tragica di Simpson se non sbaglio tra l'altro c'è una stele al ricordo di questo ciclista proprio una stele dove praticamente il ciclista il ciclista morì perché comunque l'anfetamina gli aveva impedito addirittura di sentire il limite della fatica era ormai come un motore che andava avanti per inersia però purtroppo il suo cuore non ce l'ha fatto ricordo ovviamente più recentemente come avevi tu premesso la grandissima sfida sul Mont Ventoux tra Pantani e Armstrong vinta da Pantani ci fu una grandissima diatriba successivamente perché Armstrong sottolineò dicendo ho fatto vincere Pantani che veniva tra l'altro dopo la squalifica Pantani ne soffrì tantissimo di questa cosa anche perché lui era convinto di averla vinta quella tappa ma lui per togliere ogni dubbio ci pensò tre giorni dopo l'amorzin Curcevel quando ci voltò gli disse vieni a prendere se sei capace mi ricordo e poi alla fine comunque seppur da da morto purtroppo è venuto fuori che Armstrong aveva barato mamulosamente come avrebbe detto Fantozzi e gli sono stati tolti i sette Tour de France vinti consecutivi quindi voglio dire alla fine la giustizia poi seppure il ritardo è arrivata io dico che nessuno mai ci restituerà il pirata comunque purtroppo no perché anche in questo caso come ho detto dal 67 lo Stato inglese aveva investito anche in questo caso lo Stato americano aveva investito con la US Postal quindi come ben vedi il mondo il sistema il sistema è in marcio sì a questo punto di tutti tutti gli sport di tutti gli sport forse qualche sport ancora rimane in piedi come il rugby però insomma anche lì adesso si tende cioè il fatto del fattore economico che inizia a tirare di più il rugby da quando è nata la Pro League introiti soldi multinazionali purtroppo va tutto in questo modo bene amici vi ricordo ovviamente di riascoltarci su Radio Soveria il facebook Radio Soveria oppure su Spreaker slash Radio Soveria vi ricordo i risultati finali probabilmente Everton Queens Park Rangers 2-0 Empoli Torino 0-0 Chievo Inter 0-1 Serie B Latina Varese 1-0 in Spagna nella Liga La Corugna Deportivo 1-0 contro l'Elche li salutiamo o Elche Perugia no Elche salutiamo gli amici che ci hanno ascoltato Antonio vuoi dire qualcos'altro tu? ci risentiamo lunedì prossimo con novità molto importanti novità molto importanti saluto Antonio l'altro Antonio buona serata e buon proseguimento a tutti voi ciao